un pescevoiante, un pescevoiante, un adriatico scusa scusa e anche altra settimana che erano... ho mai visto una roba del genere? qui sei volante, ecco qua! ho capito ma mi sono sempre visti in televisione, ho mai visto qua hai mai visto? no, ho mai visto, ho capito chi fai voi? io vuoi a fecciolotti che scappa dentro! esatto! che figo che è! guarda che roba, è fighissimo! che spettacolo, guarda, che bellezza guarda! e stava agganzando quel tocco e tiro, l'ho visto, lì sotto era il tocco e fin... ma guarda, il mondo c'è proprio che cambia, mai visto in vita mia una roba leggera! bellissimo! bellissimo! l'alieno! questo secondo noi è un'astronave qui! ma che roba! ti puoi ciappare questo qua se vuoi? no, no! ti puoi ciappare questo qua se vuoi che c'è un lanciaio probabilmente che ci affidavano! quindi ti puoi un'astronave, per quanto riguarda? per quanto riguarda questo mondo!